questo è un altro video ho un grande Titansidio sono tornati al corpo forse io ho pressato uno strato di una tappa è tutta la mattina che sto sbicando non riesco a ragionare sto vigilando l'unico modo per togliere il pensiero ora mi sento sullo struttaro sto qua seduto ma non cosendo e ora si è falleso un peso col sul petto sto semplicemente vivendo dentro la ruota di un regetto ancora per avere il tremino, mentre il gatto è più calma e discreto una volta benissimo cugino, è spesso la nata del scheto il gatto cagarella, sabbia il gatto cagarella, sabbia il gatto cagarella, sabbia direttore di eccolo sotto, terra